salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per portare una lamentera o meglio una problematica che mi ha esposto un mio iscritto una problematica riguardante i droni dgi che non conoscevo e appunto per questo ringrazio diego carneggia appunto che mi ha evidenziato questo problema è un problema che non tocca tutti gli utenti ovviamente è un problema che appunto va a colpire determinati utenti del mondo dei droni dgi che sono stati abituati magari da anni a pilotare aerei o elicotteri in un determinato modo cosa vuol dire questo messaggio appunto che mi ha scritto diego carneggia riguardante la sua problematica come vedete ve lo lascio qua sovraimpressione magari mettete in pausa il video così potete leggerlo perché comunque è abbastanza lungo ma è molto molto interessante soprattutto per chi ha questo tipo di problema ma soprattutto perché dgi non vada a risolvere questo problema qual è questo problema ve la faccio semplice anche se avete letto tutto il messaggio il problema è questo lui è abituato a pilotare i droni come tante persone che arrivano da un pilotaggio di aerei ed elicotteri datato nel senso che tanti anni fa chi ha iniziato a pilotare elicotteri ed aerei pilotava con la modalità che noi siamo abituati a utilizzare adesso i nostri droni cioè il mod 2 nel senso che acceleriamo tirando sullo stick di sinistra e diciamo abbassiamo il gas e atterriamo con lo stick di sinistra verso il basso e sempre lo stick di sinistra che fa girare solo io verso destra o verso sinistra appunto il drone cosa succede che questi utenti che di cui ci viene segnalato il problema appunto da questo mio iscritto che sono stati abituati a pilotare con sì questa modalità mode 2 quella che utilizziamo noi quotidianamente ma con il gas invertito cosa vuol dire che lo stick di destra loro lo vogliono così com'è mentre lo stick di sinistra loro lo vogliono così com'è per quanto riguarda lo io ma lo vogliono invertito per quanto riguarda decollare quindi dare gas o decelerare quindi loro daranno gas tirando lo stick verso il basso e andranno ad abbassare il gas tirando lo stick verso l'alto e come avete letto appunto in tutto quello che lui ha scritto questa problematica che poi diventa ancora più assurda e che con un iphone è possibile fare questa modifica nel senso è possibile tramite l'applicazione di gii fly intervenire appunto nella regolazione degli stick e invertire solo quello che è il gas e l'acceleratore mentre con i telefoni android questo non è possibile ma perché non riesco a capire questa differenza che c'è sempre tra dispositivi ios e android e questa è una funzione che non è implementata nei telefoni android almeno a quanto mi dice lui a quanto appunto viene scritto nei forum ovviamente un problema che io manco sapevo perché non avendo mai pilotato e non avendo mai avuto la necessità di pilotare in questa maniera è proprio un problema che non mi sono mai posto lui ovviamente ci dice di avere risolto il problema appunto utilizzando un iphone di un amico entrando col suo profilo invertendo appunto lo stick dell'acceleratore e poi ritornando a utilizzare il suo telefono android sempre col suo profilo questa modifica è rimasta e quindi ha potuto utilizzarlo normalmente però capite che già questo non è normale che io mi devo far prestare un telefono da un'altra persona per fare una modifica che dovrebbe avere anche un telefono android la possibilità di farmi fare appunto questa inversione del lo stick ma la cosa che poi l'ha fatto arrabbiare ancora di più ovviamente cos'è stato che lui per pilotare al meglio il suo dj ha voluto acquistare questo controller il dj rc quindi acquistando questo controllo lui pensava che ci fosse la possibilità di invertire lo stick ma essendo questo controller su base android la bellissima sorpresa cos'è stata che non si può invertire lo stick dell'acceleratore e del gas o meglio si può invertire ma andando in automatico anche ad invertire quello che è lo io quindi anche lo io sarà al contrario ed è questo ovviamente che lui non riesce a concepire perché con un telefono ios può invertire solo lo stick del gas mentre lo io lo può lasciare così com'è che quello che vuole mentre con i dispositivi android compreso il suo dj rc che probabilmente non potrà utilizzare lo restituirà a questo punto credo a meno che non arrivi una soluzione deve per forza invertire anche lo io ed è impossibile per chi è abituato a pilotare danni in determinato modo andare a ribaltare il suo modo naturale di pilotare il drone quello che gli viene in maniera diciamo più automatica quindi ragazzi questo è un problema che non concepisco soprattutto non concepisco il fatto che dj non abbia risolto questo problema e non trovi una soluzione addirittura quello che lui ha scritto ovviamente poi seguendo tutti i vari forum dedicati appunto al mondo dj per vedere chi magari avesse trovato una soluzione o vedere quanti hanno appunto questo problema si è reso conto che tanti hanno questo problema soprattutto persone che arrivano da tanti anni di aerei e d'elicotteri e la soluzione da parte di dj in alcune risposte è stata bisogna cambiare il modo di volare che cazzo vuol dire cambiare il modo di volare ma porca merda ma ci vorrà tanto a di fare l'inversione dell'acceleratore anche nei dispositivi android ma è veramente una cosa impossibile cioè se l'hai fatta per ios perché cacchio non la puoi fare anche per android e questo che veramente assurdo cioè penso che un dispositivo android abbia le stesse possibilità di fare una cosa del genere dispositivo ios cioè non lo so spiegatemi voi queste sempre assurdità che dj riesce a creare nel suo mondo dove ovviamente rimane leader in contrastato dove rimane il top dei top ma poi cade in queste assurdità soprattutto andando a non realizzare le stesse diciamo funzioni la stessa resa che si ha con un dispositivo ios rispetto a un dispositivo android nemmeno con il suo dj rc è riuscito a fare questa cosa cioè veramente incomprensibile quindi ragazzi vi aspetto qua sotto tutti nei commenti scrivete la vostra opinione scrivete se anche voi avete riscontrato questo problema se anche voi l'avete riscontrato in qualche maniera l'avete risolto se avete avuto anche voi delle risposte a dj ai del tipo ok basta cambiare il modo di pilotare avete risolto il problema cioè che cacchio di risposta è comunque fatemi sapere qua sotto nei commenti che così anche il nostro collega di volo potrà capire e diciamo avere magari delle risposte da qualcuno che ha vissuto la sua stessa esperienza o magari ha sentito di qualcuno che l'ha vissuta quindi ragazzi questo era solo un piccolo video appunto per portare la voce di persone che hanno un problema nel mondo dj ai di cercare di amplificare anche se il mio canale un canale piccolo però sicuramente può venire a contatto con qualcuno che ha delle risposte se questo mio video vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante mi raccomando ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre si va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso altissimi cupo sconto riguardante i drone tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una una mentela come questa ciao al prossimo video